ecco che andiamo a salvare i porri veramente stavano benissimo anche prima adesso li mettiamo in un posto più bello ma sono piccoli piccoli ancora ma con un ortolano meno esperto tu ce li hai i porri? si ma sono piccoli piccoli fra poco anche miei sono pronti fra poco ci vorrò ancora un po per per trafiantarli